Musica 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 Allora, dicevo, è in corso la gara dei millenetri cadenti In gara accreditato con l'ottimo 2.41 Mirko Tomasi della Benigabrito Da tenere d'occhio anche per altri studi, lo leggerò per l'amateur Thomas Gasser Messner 1.47 anche per Paul Ketter Quindi i ragazzi che dovrebbero fare la gara 1.000 metri cadenti, cioè Mirko Tomasi in testa Mirko Tomasi seguito dal pensione Massimo Torpele che c'è il passugano Valentino Noi ci passiamo a tenere l'alto parete Dalla forte Pavela Croce in zona premiazione Combattuta fino alla fine la gara dei millenetri cadenti Sono in tre per tre medaglie Applausi! 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 Secondo gruppo del lungo ragazze Attenzione sta cominciando la gara Attenzione sta cominciando la gara Selil Juan